Non ci saranno come in passato le fughe di notizie legate alle tracce d'esame e neanche la lotta contro l'uso degli smartphone durante le prove. Ma anche in occasione della maturità 2020 il pericolo che tra gli studenti si diffondano fake news è comunque in agguato. Perché l'esame di quest'anno, che verrà ricordato come quello svolto ai tempi del coronavirus, presta benissimo il fianco a interpretazioni sbagliate. Una maturità la cui veste definitiva è stata ufficializzata solo un mese fa per via delle incertezze legate allo scenario epidemiologico e alle relative misure da adottare. L'esame avrà così una formula del tutto inedita, niente scritti ma solo un colloquio orale peraltro diverso dal passato, con in più un protocollo di sicurezza da osservare per svolgere la prova in presenza a scuola. Un lungo elenco di informazioni che i maturandi non hanno ancora pienamente digerito. Proprio questo sarà il tema centrale della tradizionale campagna di sensibilizzazione che la polizia postale e delle comunicazioni porta avanti in collaborazione con il portale degli studenti scuola.net giunta al tredicesimo anno. L'obiettivo di maturità al sicuro è sempre quello di contrastare la vigilia dell'esame fake news, bufale e leggende metropolitane. Per evitare che i ragazzi non perdano tempo prezioso dietro a notizie forvianti ma soprattutto per tranquillizzarli. Visto che travolti ha un'enorme quantità di consigli per evitare il contagio da covid-19 è come se tra gli studenti si sia diffuso una sorta di terrore da orale, dal vivo. A confermarlo è l'annuale monitoraggio realizzato da scuola.net per polizia di Stato su un campione di circa 5.000 studenti del quinto anno delle superiori, che stavolta si è concentrato proprio sulle norme sociosanitarie adottate dal Ministero dell'Istruzione in base alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Circa un maturando su quattro ad esempio, pensa che sarà costretto ad avere la mascherina ben fissata sul volto per tutta la sua permanenza nell'edificio scolastico anche durante il colloquio, quando invece le linee guida concedono allo studente la possibilità di abbassarla per svolgere il colloquio, visto che la disposizione delle postazioni impone il rigido rispetto di un distanziamento di almeno due metri tra i presenti in aula. E il 21% invece è rassegnato all'idea di doversi presentare a scuola da solo, senza nessuno, mentre il protocollo non vieta a un accompagnatore, uno soltanto, di assistere all'esame. Un tema particolarmente controverso è quello sulle regole per l'accesso a scuola agli studenti e ai commissari. Non verrà misurata la febbre, ma gli basterà produrre una dichiarazione che attesti l'assenza di sintomi riconducibile al Covid-19. Peccato però che solo uno su tre ne sia al corrente. La maggioranza pensa che la misurazione della temperatura sarà obbligatoria, mentre il 19% all'esatto opposto è convinto che non ci sarà alcun controllo in tal senso. Lo stesso si può dire per la questione guanti. Nessun obbligo, secondo il protocollo, basterà igienizzarsi frequentemente le mani con i gel messi a disposizione dall'istituto, ma solo uno su due è aggiornato su questa procedura. L'unico passaggio veramente chiaro è quello dei tempi di permanenza nelle strutture. Quasi tutti sanno che potranno arrivare circa 15 minuti dal proprio esame e che dovranno andare via immediatamente una volta finita la prova. L'iniziativa antibufale di Polizia di Stato e Scuola.net serve proprio per veicolare messaggi corretti e sgomberare il campo da quelli errati. Per questo, per rafforzare il messaggio utilizzando un linguaggio più vicino a quello dei maturandi, è stato anche realizzato un video che verrà diffuso su Scuola.net e sui canali Facebook, Instagram e YouTube. Un contenuto ironico che passa in rassegna i comportamenti sbagliati che uno studente potrebbe assumere leggendo in modo distorto il protocollo di sicurezza. In più, gli operatori del commissariato di Polizia di Stato online anche quest'anno saranno a disposizione dei ragazzi nelle ore immediatamente precedenti all'inizio del maxi orale per rispondere a tutti i loro quesiti e dubbi sulle informazioni che circolano in rete. E anche se questa maturità sarà diversa dalle precedenti, noi non vogliamo far mancare il nostro grande in bocca al lupo a tutti voi.